Ciao, qui Danilo Maruca di Dritto alla Meta.it. Se non mi conosci sappi che insieme al mio staff ci occupiamo di riprogrammazione del subconscio per permetterti di raggiungere i tuoi obiettivi professionali e personali. Inoltre ti ricordo che se vuoi ricevere dei contenuti esclusivi di crescita personale puoi farlo iscrivendoti al gruppo privato su Facebook che è gratuito. Trovi il link in descrizione. In questo video ti parlo di leadership e voglio condividere con te un concetto fondamentale che è anche la caratteristica probabilmente più importante di tutti i grandi leader. Un leader, ascoltami con attenzione, è una persona che crea altri leader. Un leader non è chi ha un miliardo di seguaci ma è un leader colui che crea altri leader. Come fai ad applicare questo concetto alla tua vita? Se sei un imprenditore aiuta i tuoi collaboratori, i tuoi dipendenti a crescere, a migliorare. Aiutali a tirare fuori quelli che sono i loro talenti e le loro qualità. Magari paga un corso di formazione a qualcuno, ad un altro magari gli dai dei consigli, ad un altro ancora cerchi magari di studiare bene qual è la sua qualità principale e lo sproni, lo motivi, lo aiuti a tirarla fuori. Questo fa un leader. Crea altri leader. Se sei un dipendente lavora per la tua azienda come se fosse la tua. Quindi non comportarti come un dipendente ma comportati come se quell'azienda fosse la tua. Cura i dettagli, dai il 100% perché quell'energia che immetti ti ritorna dietro e ti ritorna anche moltiplicata. Se sei un libero professionista cerca di essere il più utile possibile ai tuoi clienti. Ma questo concetto, quindi di cercare di aiutare gli altri, di toccare la vita degli altri, di influenzarla positivamente, lo puoi applicare in ogni area della tua vita. Con i tuoi figli, con il tuo partner, cerca di capire qual è il loro talento e aiutali ad esprimere appieno sia il loro talento che le loro qualità. Quindi se sei un leader sei anche una persona che ti metti al servizio degli altri, che cerchi di capire in che modo puoi avere un impatto positivo sulle altre persone. Se vuoi potenziare la tua leadership dovresti porti queste domande. Quale eredità voglio lasciare al mondo? In che modo posso sfruttare appieno i miei talenti per dare un enorme contributo agli altri. Quindi se vuoi andare a potenziare la tua leadership non devi cercare di parlare in maniera più forte, essere sempre motivato, avere sempre un'energia eccessiva. Puoi anche essere tranquillissimo perché quello è il tuo carattere e non è la cosa fondamentale. La caratteristica più importante è quanto cerchi di essere utile agli altri perché quello che fa un leader può essere controintuitivo ma non è colui che dice ok dobbiamo fare questo, lo facciamo e basta. Non è solo quello. Un leader è vero, guida con l'esempio, detta spesso la direzione, ok, ma è leader anche e soprattutto colui che aiuta gli altri a diventare migliori, a diventare più consapevoli, a diventare più saggi, a diventare più capaci, a diventare sempre di più. E visto che il principale obiettivo dell'inconscio è quello di raggiungere la perfezione in ogni forma e modo, se tu cerchi di aiutare gli altri a diventare dei leader, automaticamente tu migliorerai la tua leadership. Quindi il tuo inconscio inizierà a guarire da determinati traumi che magari hai preso chissà quando e chissà dove semplicemente perché stai cercando di aiutare gli altri. Quindi questo è un consiglio che ti do proprio in generale. Quando hai un obiettivo preciso aiuta gli altri a raggiungere i loro obiettivi. Quindi se tu vuoi diventare più ricco aiuta gli altri a diventare più ricchi. Se tu vuoi essere più saggio aiuta gli altri a diventare più saggi. E se tu vuoi potenziare la tua leadership aiuta gli altri a diventare dei leader.